salve amici di sconton oggi vi portiamo da basilico food e drink posto incantevole e raffinato curato nei minimi dettagli con ampi spazi all'aperto arredati con stile e gusto dove potrai trascorrere i momenti più belli in compagnia dei tuoi amici o per una cenetta romantica insieme al proprio amore basilico si trova in via finocchiaro 11 a ci reale ciao iscriviti al canale